la trentottesima puntata del grande fratello vip 7 è stata aperta tanto per cambiare sul tema edoardo donna maria e antonella fiordelisi i due piccioncini litigiosi non sono più piccioncini ma sempre litigiosi stavolta pare che l'addio sia definitivo ma mai dire mai l'influencer non ha perdonato una dimenticabile palpata del volto di forum a nicole murgia la questione ovviamente ha coinvolto altre persone e nello studio a un certo punto c'è stato il caos sonia bruganelli ha fatto a pezzi edoardo tavassi attaccandolo in modo durissimo il vippone si è difeso con una battuta tagliente nel mentre donna maria ha chiesto persistentemente la parola ad alfonso signorini che è diventato un diavolo avventurandosi in una affilata ramanzina tralasciando la vicenda donna maria e fiordelisi i due come fanno da mesi si sono accusati a vicenda su diverse tematiche insomma nulla di nuovo sotto al sole la moglie di paolo bonolis si è concentrata su tavassi secondo lei il romano è il burattinaio della casa su di lui ha speso parole pesantissime e spietate lui è un manipolatore burattinaio e stratega mai visto in un reality una roba del genere il burattinaio dei poverini con scarsa personalità stai facendo la figura di una persona senza anima stai rovinando alcune persone senza personalità come già ele ed edoardo che da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con antonella tavassi ha replicato senza scomporsi troppo secondo me a sonia il televisore arriva 54 e non a 55 cioè il canale del reality ndr tu non lo vedi il gfvip tu non ti devi permettere di dire queste cose tu vivi di reality e ok ma non permetterti di entrare nelle mie dinamiche se vedo o no il gf la contro replica dell'opinionista già ele ha tentato di ribattere anche micolin corvaia ha tentato di prendere parola la bruganelli ha zittito entrambe in modo rapido e secco voi non siete le protagoniste non voglio parlarvi invece oriana che ha un po di personalità ha dimostrato che ce ne si può fregare del gruppo per la prima volta che ci si può fregare del gruppo di Grazie a tutti.